Gioacchino Murat, un condottiero tra rivoluzione e restaurazione. Gioacchino Murat è stato un generale francese, re di Napoli, con il nome di Gioacchino Napoleone, e maresciallo dell'impero con Napoleone Bonaparte. Nato alla Bastide Fortuniere, in Francia, il 25 marzo 1767, era il sesto figlio di una coppia di locandieri. Murat si arruolò nell'esercito francese nel 1791 e rapidamente si distinse per il suo coraggio e le sue capacità tattiche. Partecipò a tutte le campagne di guerra della Grande Armée, scalando le gerarchie militari e conquistandosi la fiducia di Napoleone. Nel 1806 fu nominato Granduca di Berge e di Cleve e nel 1808 sposò Carolina Bonaparte, sorella minore dell'imperatore. Nel 1809 Murat fu nominato maresciallo dell'impero e nello stesso anno fu inviato a Napoli, dove fu proclamato re. Murat governò Napoli con un'impronta liberale e progressista, introducendo importanti riforme sociali ed economiche. Favorì lo sviluppo dell'istruzione pubblica, l'abolizione della fedalità e la promozione della cultura italiana. Nel 1812 Murat partecipò alla campagna di Russia, dove si distinse per il suo coraggio e la sua determinazione. Dopo la sconfitta francese, Murat tornò a Napoli e si preparò a difendere il suo regno dall'invasione austriaca. Nel 1815, dopo la caduta di Napoleone, Murat tentò di restaurare il regno di Napoli, ma fu sconfitto dagli austriaci e fucilato a Pizzo Calabro il 13 ottobre 1815. La figura di Murat è controversa. Da un lato, è considerato un abile condottiero e un sovrano illuminato. Dall'altro, è stato accusato di essere un opportunista e un traditore, che si schierò con Napoleone solo per ambizione personale. Tuttavia, Murat rimane una figura importante nella storia italiana. Il suo regno di Napoli fu un periodo di progresso e modernizzazione, che contribuì a rafforzare l'identità nazionale italiana. Ecco alcuni dei principali eventi della vita di Gioacchino Murat, 1767. Nasce alla Bastide Fortuniere, in Francia, il 25 marzo. 1791, si arruola nell'esercito francese. 1793, partecipa alla Campagna di Italia. 1796, partecipa alla Campagna d'Italia di Napoleone. 1799, gioca un ruolo fondamentale nel colpo di stato del 18 Brumaio. 1800, sposa Carolina Bonaparte, sorella minore di Napoleone. 1806, è nominato Granduca di Berge e di Cleve. 1808, è nominato Re di Napoli. 1809, è nominato Maresciallo dell'Impero. 1812, partecipa alla Campagna di Russia. 1815, tenta di restaurare il Regno di Napoli, ma è sconfitto dagli austriaci e fucilato a Pizzo Calabro. Murat è stato un personaggio complesso e contraddittorio, ma è innegabile che abbia avuto un ruolo importante nella storia europea. 1815, potente All sesi 21 neone 5 2 7 5 10 Grazie a tutti.